...lo leggessi in francese, però, cioè, perché tu l'hai studiato in francese? Beh, 50 anni fa, 60 anni fa... Eh, ma il francese è dentro di te. Sì. Quindi? Tanto, Cremant d'Assas. Cremant d'Assas. Eh, guarda, hai un po' di voce. Cremant d'Assas. Sì, d'Assas. 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 D'Assas, Cremant d'Assas, Controle, cioè, come denominazione di origine controllata. Allora, devo parlare in francese? Fai forse il francese, il denominazione di origine controllata. D'Equilibre. D'Equilibre. E le francese. E le Cremant. E poi impegnati. Questa crematura. D'Assas, Covenient, Vini Subrim, Armonia. Sì. De Troyes. No, De Troyes. De Troyes. De Troyes. De Troyes. De Chardonnay, Pinot. Allora, l'Egiterre è... Eh, ma cazzo, ma c'è francese, eh. Oh, non, perché si riesco a chiamare. Ma, smettila, dai. Dai, dà, 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 dà. C'è Cremant? Fai dà. D'Assas. Sì, però, concentra, sta parlando francese, dai. non è che non si concentra il sacrement d'Alsace è ideale per l'aperitivo e la ricetta ha speso il francese, ha speso 25 mila euro, è stata a Lourdes per 4 anni, niente